Ben ritrovati cari amici, siete i benvenuti in casa Citroen, siete ospiti di un'azienda del grande gruppo Intergea, benvenuti da Teorema, concessionario ufficiale del manchio Citroen. Siamo a Torino, in Corso Rosselli, e che cosa dirvi? Innanzitutto, Citroen è in grado da sempre di offrirvi ottimo rapporto prezzo-qualità, oltre a tanto stile e tecnologia. Che cosa è in grado di offrirvi l'azienda Teorema? Le migliori soluzioni d'acquisto, ufficiali, quelle delle casamadre, e tante soluzioni che hanno studiato appositamente per risolvere le vostre personali esigenze d'acquisto. Ma ne parliamo proprio con il responsabile dell'azienda, Nunzio Rosselli, grazie per essere qui con i nostri telespettatori. Ciao Stefania, benvenuta, benvenuta a tutti i telespettatori. Trasmettiamo da Teorema, Teorema concessionario a Citroen di Torino e di S-Store, da Corso Rosselli 181. Siamo quasi in zona centrale, vicino al parco Ruffini, quindi assolutamente comodo, parcheggio e tutto. E ovviamente ricordo che nella stessa sede abbiamo il service, quindi tutto il gruppo assistenza, e abbiamo anche i veicoli commerciali, cosa che l'altra volta ci siamo dimenticati, ma è molto importante perché abbiamo tutta la gamma, tra l'altro in esposizione, da provare. Settore importante, il mondo del lavoro, veicoli dedicati della gamma Citroen. A voi il piacere di venire a scoprire tutti i vantaggi dedicati al mondo del lavoro. Nunzio, ti chiedo però queste eccezionali promozioni di acquisto. Ci aspettiamo moltissimo dalla vostra azienda. So che oltre a quelle ufficiali, alle soluzioni di acquisto ufficiali delle casa madre, Teorema si è attrezzata per offrire ai nostri telespettatori, solo per voi, in esclusiva, alcune soluzioni di acquisto davvero importanti. Ci fai qualche esempio? Bene sì, il gruppo Intergea ha studiato un reale noleggio rivolto ai privati, un noleggio molto interessante che si chiama Sempre Nuova, e un costo guida mensile dove all'interno abbiamo ovviamente tutto ciò che serve per guidare sereni. Ci tengo a dire che nei servizi abbiamo auto di cortesia sempre, quindi disponibile, pronta, manutenzione, estensione di garanzia, fornitura, gomme termiche e tutto questo per cinque anni. Quindi realmente è una formula interessante da sfruttare perché vi permetterà intanto di dare anticipo zero e poi di partire sereni perché vi verrà pagato l'usato totalmente cash, quindi assegno dell'usato e si parte per le vacanze fresche. Insomma, venite a richiedere informazioni circa questa soluzione d'acquisto, mi permetto di consigliarlo. Che cosa accade? Avete un budget e dovete scegliere tra le ferie estive o la vostra nuova splendida auto Citroen? Non dovete scegliere. Ci ha pensato Nunzio Rosel, ci ha pensato l'azienda. In questo modo, con questa soluzione, il vostro usato pagato per contante anticipo zero. Sulla gamba di vetture Citroen, questo è possibile? Sì, entriamo nel dettaglio realmente. Quindi partiamo da C3 Purtè con 82 fill, formula ovviamente sempre nuova, dove l'anticipo è zero. Il costo guida è di 228 euro, ovviamente stessa cosa per C3 Aircross. Purtè con 82 fill, quindi il SUV di casa Citroen è assolutamente nuovo appena nato, con sempre nuova, anticipo zero, costo guida 271. Quindi con circa 50 euro in più abbiamo la possibilità di girare su un real SUV di casa Citroen. Realmente interessante e tutte queste macchine sono ovviamente da provare test drive su strada. Approfittatene assolutamente, venite ad informarvi, ma i vantaggi Teorema e Citroen non finiscono qui. State con noi. Partiamo con DS, marchio premium del gruppo PSA, dove vi presentiamo una eccezionale DS4 Blue HD 120 CV, Palli, matricolata al 31 8 2017, anche qui formula sempre nuova, la rata è di 295 euro, costo guida. Citroen Elisee, una berlina economica ma molto elegante, una versione 100 HD exclusive, una versione che noi proponiamo a 8.900 euro, anno 2016, i chilometri sono circa 40.000, sono le ultime tre, grigio, grigio medio e grigio argento. Introvabile, casa Renault Captur 90 benzina, una versione aziendale, macchina molto molto interessante, il prezzo è di 14.900 euro, l'anno è 2017 e a circa 10.000 chilometri, vi ricordo che di queste ne abbiamo ancora due disponibili. Passiamo a una berlina di casa Citroen, C4 Blue HD 100 fill, una vettura eccezionale per viaggiare, la macchina è matricolata nel 2016, i chilometri sono circa 40.000 chilometri, la nostra richiesta è di 11.490 euro, è una macchina aziendale Citroen in garanzia ufficiale. Comoda e spaziosa, C3 Picasso, è un 100 HD fill, è una versione aziendale anche questa, parliamo di una C3 Picasso del 2016 con circa 35.000 chilometri, garanzia ufficiale della casa, la nostra richiesta è 11.490 euro, una macchina assolutamente da vedere e da provare. SUV di casa Citroen, C4 Aircross 115 cavalli, è una versione esclusiva, una versione nera molto aggressiva, anche qui parliamo del prodotto sempre nuovo, a cui veramente la rata diventa interessante, perché con un semplice anticipo di 4.000 euro la vostra rata sarà di 330 euro. Costo guida, intendo tutti i servizi di cui abbiamo parlato prima. Visto il caldo e vista l'estate vi propongo una Smart Cabrio 1000, una cabrio realmente interessante, comoda per le nostre città, immatricolata nel 2012, è una macchina perfetta, in perfette condizioni, ha percorso 78.000 chilometri, il prezzo che abbiamo messo è di 7.400 euro, ma attenzione che sarà di 6.900 euro, quindi abbiamo abbassato i prezzi per l'estate. Venite a provarla e venite a vederla qui in Teorema. Bene, se siete rimasti in nostra compagnia insieme a me, avete seguito Nunzio Roselli, avete scoperto le autovetture che ha selezionato personalmente insieme ai suoi collaboratori per ognuno di voi. Un piccolo esempio, Nunzio, perché i saloni di esposizione, come vediamo, ospitano tantissime autovetture chilometri zero ed occasione di tutte le marche e un po' di tutti i prezzi. Le macchine sono tante, il prodotto sempre nuova è interessante, quindi lo si fa sul chilometro zero e sul nuovo, e lo ricordo perché è una formula veramente valida, il costo guida è reale, i cinque anni sono garantiti e quindi addio pensieri e si parte tranquilli. Venite a richiedere maggiori informazioni, ovviamente per tutto ciò che riguarda l'acquisto di una vettura nuova con il double chevron Citroën, per tutte le proposte firmate Teorema, l'indirizzo lo vedete. Io ringrazio Nunzio Roselli, responsabile dell'azienda, buon lavoro a te. Grazie Stefania, grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. Alla prossima volta e voi non andate via, state ancora con noi. Grazie.